Dice se avete, però forse ci sono molte questioni, scusate se l'ho fatta un po' lunga. C'è una domanda che è per posto dell'attaccamento, io ho un salotto grandissimo, un quadro di Cetania che pianto e mentre canta. Buona, allora, questa è un'altra domanda sull'attaccamento. Il Mataji ha in casa una grande foto di Cetania Mahaprabhu che stia chiamando. Quindi che vorresti dire? Che noi conosciamo un piatto che è di sofferenza, invece te vorresti... Ok, so we know, when we are baby, we start from the childhood, the week that we cry by suffering. She wants to immedesimate, to share with Cetania Mahaprabhu this crying of joy, this crying of bliss. Come si può entrare dentro veramente? How can we get into this Cetania Mahaprabhu's cry? In effetti, la mia domanda che è a te... Chi è Cetania? Chi è Cetania? Krishna... Krishna... Rada Krishna... Rada Krishna... Rada Krishna... Questa gli piace... Rada e Krishna... Rada e Krishna... Dove è Radharani... Rada... Rada ? Fuori... Rada... Fuori... Rada... Rada... Chi è rinunale? Rada... Quindi devi prendere in considerazione prima Radarana. E perché Krishna viene qui? C'è anche Krishna. Perché viene? Viene per testare il sentimento di Radarana. Quindi Radarana è fuori. Krishna c'è. E il sentimento Radhika è anche qui. Quindi vedete il sandwich? Quando preparate il sandwich, due fette di pane e ci mette in mezzo il formaggio. Due fette di pane e ci mette in mezzo il formaggio. Ascoltate. Radhika è fuori. Il sentimento Radhika è dentro e Krishna è in giù. Quindi ci sono da una parte una fetta di pane Radarana. Transcendental sandwich. Il sentimento di Radarana è l'altra fetta. E nel mezzo come ripieno c'è Krishna. Quindi che importanza c'è qui? Radha è importante o Krishna è importante? È importante Radarana o Krishna? Radharana. Dice ci sono due cose sono Radarana. Una è Krishna e l'altra vince Radarana. Lui non può uscire. Lui non può uscire fuori da questa combinazione. perché lui è birichino. Perché lui è birichino. In Bhagavad Gita dice che come la mente si muove, Krishna si muove. È come la mente. La Bhagavad Gita dice che Krishna si muove come si muove la mente. Quindi serve che Radharana lo tenga fermo da due parti. e lui dice che vuoi sentire Radhika's bhaava. Quindi vuoi sentire il bhaava di Radarani? Non c'è problema. Devi essere sempre con me. e se vedi Krishna e se uno di Chaitanya vede Krishna non capisce Chaitanya. Adesso perché Mahaprabhu piange? Perché questo è Radhika che piange per Krishna. perché è Radharani che piange per Krishna. Radhika piange non si guarda per lui. Lui è dentro ma non si vede fuori. Quindi lui è piangendo quando ti vedrò. perché lei è fuori e non lo vede. perché ce l'ha dentro. E quindi piange quando ti vedrò. Scusate. Quindi c'è così tanto attaccamento di Radharani per Krishna. che lei non riesce a sentire una separazione da Krishna nemmeno per un momento, non la regge nemmeno per un momento, la separazione. E quando la sente, allora comincia a piangere. questo è il quadro. Questo è il quadro. Grazie. Questo è il quadro. Lei è insegnato Chaitanya. Lei è insegnato nel mood di Radhika. Se vuoi essere diventati devi morire. devi morire. devi morire come me nella separazione con Krishna. quindi Chaitanya Madhura dice se vuoi essere nel sentimento di Radharani devi fare come me. devi piangere, piangere per Krishna. ma la mia domanda è che ci sta a fare la chitata di Gormangelo? No, I don't understand. Va bene. Per un esempio. She's asking about the cheese. I don't understand the example. No, 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 no. Attenzione, Maraja sta rispondendo. You know, I give you to understand. Krishna Krishna is always butter. Krishna is always butter. He likes butter. He likes butter. He likes butter. Krishna is in between Radhika and Radhika feeling. and the feeling of Radhika. That he wants to Radhika wants to bring you not to Dwarika. Radhika wants to bring you straight to Vrindavana. e quindi Radharani non ti vuole portare a Dvaraka Radharani ti vuole portare diretta a Vrindavana questa è la sua misericordia Krishna è a Dvaraka Krishna è a Dvaraka se uno va direttamente va direttamente a cercare Krishna Krishna ti porta a Dvaraka e invece quando uno prende rifugio nel signore Dvaraka uno legge tutta la Cetania non c'è mai menzionata Dvaraka nel quarto canto della Biblià è scritto in maniera molto rigorosa che non uccide nessun demone questo Krishna Brajantrananda non uccide nessun demone non è sorprendente non è sorprendente però è giusto ma che gli importa a lui perché dovrebbe uccidere i demoni ma figuriamoci non viene mica per uccidere i demoni viene e Krishna viene per scambiare relazione amore con i devoti questo è il lavoro di Narayana per fare queste cose dice fare queste cose uccidere i demoni è un lavoro di Narayana questo è Aishwarya Krishna questo si chiama Aishwarya Krishna è sempre Krishna però è nell'aspetto dell'opulenza di Dvaraka se uno non riesce a differenziare queste due comprensioni se uno non riesce a differenziare questi due aspetti diventa una faccenda che confonde molto che crea problemi vuoi il Krishna Radha Krishna o vuoi il Rukmanini Krishna voi volete il Krishna di Radha Rani o il Krishna di Rukmanini Krishna di Radha Rani allora quello è Chaitanya grazie hai capito? si si grazie Maraj grazie Maraj Aishwarya e Vishay quindi c'è Aishwarya e Vishay e Vishay è Krishna e Vishay è Krishna Vishay è Krishna E quando si vede Chaitanya, Ashraya e Vishaya sono insieme, rifugio e oggetto del rifugio sono insieme. Se uno non stabilisce questa cosa, non funziona la ricerca di Presidente Ananda.